Ciao a tutti, perché continui a soffrire per amore? Ci sono persone che continuano a soffrire per amore, cioè l'amore non è più una delizia ma è una croce, diciamo così, se vogliamo. E quindi questo capita per un motivo molto particolare, perché come al solito sbagli ad accanirti sulle situazioni, perché come al solito continui, diciamo, a creare dei vitelli d'oro e questo vitello d'oro poi inizi a portarlo su un piedistallo, inizi a piegarti, inizi a venire meno a un qualcosa che è fondamentale, che è la tua dignità. Perché chiunque, qualunque persona che non viene meno la dignità, che la fa diventare un principio non negoziabile, e non può soffrire per amore. Perché quando la situazione si mette in condizioni tali per cui non ci sono più i presupposti o vedi che una persona non ti dà quello che tu vorresti, allora devi avere la forza di chiudere, devi avere la forza di lasciare. Vale a somministrare questo abbandono. Se le somministri l'abbandono, se le somministri il rifiuto, se somministri, diciamo così, delle tensioni emozionali, allora potrai magari riuscire a riconquistarla. Perché anche questa persona ha un imprinting, anche questa persona ha un passato, anche questa persona ha delle emozioni contratte, delle emozioni compresse. Allora, vagli ad amplificare e smetti di fare lo zerbino o la zerbina, smetti di inseguire. Inseguire è giusto, manifesta l'interesse, è giusto manifestare l'interesse, per carità, è giusto farlo, ma poi basta, poi devi dare vita ad un principio, che è quello, il principio della pluralità. Oggi non riesco neanche a pronunciare bene le parole. Comunque, che è il fatto che siamo in 7 miliardi e 400 milioni su questa terra, su questo pianeta. Per cui, vuoi proprio che quello stronzo o quella stronza lì sia l'unica persona che fa per te? Ma non, non, questo è un delirio. Ecco, entrare in un ragionamento del genere vuol dire mettere in atto un ragionamento delirante, privo di senso, quindi vattene a cercare un'altra, vattene a cercare un altro e non stare lì a inseguire chi per qualche motivo, devi somministra abbandono, somministra rifiuto, somministra disistima e vedrai che magari riuscirai a conquistarlo. Se una persona si pone con te in maniera, diciamo, in maniera negativa, se invece si pone in maniera positiva, allora, diciamo, inizi a lasciare scorrere liberamente l'energia dell'amore, inizi a dare e ricevere, perché dare e ricevere è la cosa fondamentale. Quando vuoi che una relazione sentimentale funziona bene, bisogna imparare a dare, bisogna imparare anche a ricevere, quindi quello è fondamentale. Ma se vedi che dall'altra parte, come dire, ricevi un decimo di quello che dai, smetti di dare, perlomeno, questo è la cosa fondamentale. E vedrai che smetterai di soffrire per amore, perché troverai altro. Il mondo, come dire, come si dice, il mare è pieno di pesci. E allora vai a pescare un altro pesce. Per questo video è tutto, iscriviti al canale, ci vediamo al prossimo, ciao!